E finalmente alla commissione è arrivato, alla commissione all'asilo Mariuccia, è arrivato il governatore della Banca d'Italia, Visco. Ovviamente tutti quanti gli hanno chiesto se Renzi sapeva e quanto sapeva, e la Boschi, chi ha visto e chi non ha visto, per la questione della Banca Etruria. Allora le interpretazioni dei giornali oggi sono due, due completamente diverse. Il Corriere della Sera e i simili dicono, anche un pochino il giornale se vogliamo, che c'è una tregua armata tra Visco, che vi ricordo Renzi non voleva confermare per due anni alla guida della Banca d'Italia, e Renzi e Boschi. Invece gli altri giornali guardano il bicchiere mezzo vuoto, vi faccio un po' di titoli, sì l'uro a Renzi, questo è il italiano nazionale, l'oro di Arezzo e la presa per i fondelli sul fatto che si sarebbe occupato dell'oro Renzi, questo era il problema fondamentale, non le banche perché questa era l'industria che si sarebbe stata toccata. Giorgio Aug. Visco e Renzi, invece il rapporto è di incastrarlo, questo invece dice il fatto, Visco incastra Renzi. Bene, queste sono le cose fondamentali oggi sui giornali che riguardano il rapporto dell'asilo Mariuccia, nessuna pressione, solo informazioni fa capire Renzi, mentre Fubini nel suo pezzo Corriere della Sera che ha articolato vi segnala un passaggio che invece è quello fondamentale, perché Renzi in un'intervista alla stampa ha detto che lui ha fatto sì che si commissariasse la Banca Etruria, tant'è che in questa maniera dice io sono del tutto innocente, non ho nessun conflitto di interessi, tutt'altro e oggi Fubini dice che Visco ieri nella relazione ha messo bene in evidenza come a commissariare la Banca Etruria non sia stato Renzi, non sia stato il governo da lui guidato perché non è nelle sue facoltà a farlo, ma sia stato il governatore della Banca d'Italia che peraltro ieri ha detto che non aveva avvertito il governo come soprerogativa di questo commissariamento. Sulla materia, ho scritto anch'io sul giornale, dico ma la Banca d'Italia una volta in vita sua un mea culpa su qualche cosa, lo fa indipendentemente dal fatto che era evidente che Renzi volesse fare i suoi affari all'interno del sistema bancario italiano, legittimi o no che siano comunque voleva farli ed è altrettanto evidente che non ci sia riuscito, ma la Banca d'Italia è sempre perfetta, non ha mai sbagliato, non ha mai commesso un piccolo errore, ha sempre vigilato bene, i funzionari della Banca d'Italia che sono andati alla Popolare di Vicenza, un un cenno, un mea culpa da parte di un'istituzione che come tutti gli esseri umani qualche volta sbaglia, zero. Banca d'Italia non sbaglia mai. Comunque l'altra cosa divertente che mi sembra che Alberto Signori oggi sul giornale nota è come la commissione delle banche, l'asilo Mariucci ha presieduto da Casini, sia stato fortemente voluto proprio da Renzi. Devo dire che insieme ai referendum forse questo è l'errore politico più grosso che ha fatto l'ex presidente del Consiglio. L'altro tema di giornata fondamentale è Spelacchio, l'abete o quello che cavolo è l'acero rosso che è stato posto a Piazza Venezia, scusate non so esattamente cosa sia, quello che so è che è costato 50 mila Euro e quei 50 mila Euro sono morti 5 giorni prima del Natale e tutti si interrogano sul fatto di come un'amministrazione non sappia gestire una città ma neanche gestire un addoppo, neanche un addobbo riesca a gestire in quella città e non c'è neanche il pauperismo tipico del Movimento 5 Stelle o l'ecologismo tipico del 5 Stelle in questa metafora dello Spelacchio perché è costato e peraltro è morto. Ma il punto fondamentale è che ieri Raggio ha detto non mi ricandito, che però nel mondo del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere una banalità perché non è consentito ai politici del Movimento 5 Stelle secondo il loro non statuto statuto di candidarsi due volte, tant'è che a Pomezia stanno ritigando con questo Fucci che si vuole candidare per la terza volta e dice ci vuole continuità nella gestione amministrativa, invece la Raggi dice di no e lo dice perché rispetta lo statuto, qualcuno lo sfotte il foglio, altri invece come il fatto riescono a fare il seguente titolo, giuro la Raggi dall'abisso ai primi risultati, non ho ben capito quali siano questi primi risultati, è chiaro quella era la parte dell'abisso iniziale di Marra che lei definisce uno dei 13 mila dipendenti del Comune di Roma, poi in realtà è il suo più stretto collaboratore e così viene derubricato. Possiamo non avercela con la Raggi, ma certo pensare che ci siano oggi i primi risultati bisogna capire quali siano. Parente, molto divertente, utilizza sul giornale la metafora di Spelacchio e il simbolo del fallimento grillino e devo dire che sulla vicenda si mette insieme, altri giornali mettono insieme anche come Appendino a Torino e Raggi a Roma come situazioni di non buona amministrazione, poi per quanto riguarda i processi questi mi sembra che riguardino un po' tutti i rappresentanti dei comuni in Italia. Molto divertente perché non viene praticamente citata dai giornali se non in dieci righe, la storia è la parabola di Ingroia. Ingroia era il moralizzatore dell'Italia, l'uomo che voleva mettere in galera Silvio Berluscone, l'uomo della trattativa Stato-mafia, il magistrato integerrimo, quello che il Fatto, Santoro e tutti i moralisti d'Italia tenevano in palmo di mano. Bene, è stato accusato per la seconda volta di peculato perché si faceva dare più soldi di quanto era provvista dalla delibera siciliana, cioè 113 mila euro invece che 50 mila euro e avrebbe speso per trasferte per arrivare a Palermo 30 mila euro. C'è un dubbio sul fatto che abbia speso questi soldi? No, il dubbio è che i magistrati lo devono trovare se c'è stato peculato nel comportamento di Ingroia. Allora l'idea che questi mostri della grande moralità italiana, della battaglia contro i corrotti e contro i mafiosi, poi dopo quando smettono di fare il loro lavoro diventano semplicemente a loro volta degli accusati di peculato, mi fa sorridere, ma ancora di più mi fa sorridere che i giornali che li avevano fino a poco tempo fa considerati degli eroi oggi si dimenticano di citarli nelle loro numerose pagine moralistiche che riguardano tutti quanti. Un altro grande eroe, questo lo dico con cognizione di causa perché fece una grande battaglia per lui, è certamente Silvio Scaglia che andò in carcere ingiustamente per Fasto, ma non è un grande eroe dal punto di vista economico, non lo è mai stato, cioè Silvio Scaglia è un eroe perché è andato in carcere in maniera ingiusta, ma è uno di quei tipici esempi della finanza rapace che un liberale come me non condanna ma neanche esalta. Si è preso La Perla, che è un'azienda italiana che stava in fallimento, e la piazza dopo tre anni i cinesi. Quando si pensa a Scaglia e a Fasto e a compagnia cantante si pensa a quella roba lì, il fatto che lui sia stato ingiustamente in carcere con i suoi amici non toglie il fatto che questo è proprio il capitalismo di cui non avremmo bisogno in Italia, cioè facessero gli affari loro, ma non facessero anche loro i moralisti sul fatto che loro hanno sollevato le sorti dell'Italia, loro non sollevano le sorti di niente, fanno i loro affari, fanno bene a farlo e ci auguriamo che facciano un sacco di soldi ovviamente, ma da questo dire che siano gli emblemi del nuovo capitalismo progressista italiano ce ne vuole molto, un po' come quelli che oggi si pentano di aver fatto Twitter e Facebook e ci spiegano che il futuro sono i loro venture capitalist, come abbiamo letto ieri con Massimo Gaggi su Corriere della Sera, i loro venture capitalist che investono soltanto su internet sociale. Oggi era difficile capire se era più interessante, era più grigio scusatemi, l'intervistato Grasso o l'intervistatore, cioè Massimo Franco, il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, si candida a diventare come sapete leader di un partito che avrà il 6-7%, l'intervista di Grasso è di una noia di quelle che è di una noia mostruosa l'intervista alla seconda carica dello Stato Grasso, intervistato da Massimo Franco, anzi forse Grasso, il grigio Presidente del Senato è più divertente dell'intervistatore, è una di quelle interviste a schiena dritta, in cui ovviamente non si fa neanche una domanda al politico, però se il politico è Grasso, non c'è nulla di male, se l'intervistatore è Massimo Franco, non c'è nulla di male. Comunque vuole riportare, questa è la notizia, riportare a casa loro i voti di coloro che oggi votano 5 stelle, questo è il succo di un'intervista che potete anche non leggere. Un'altra piccola notazione, altre due ultime piccole notazioni ve le faccio, una è su Scansi, che è il giornalista che in un messaggino, in un articolo scrisse che noi invitavamo spesso per alzare gli ascolti, quindi il suo egocentrismo è un eccesso di egocentrismo che ogni tanto vediamo tradotto sul fatto. Oggi se la prende con Cerasa, che fa il direttore del Foglio, perché ha partecipato a una trasmissione di 8,5 che è un suo evidentemente piccolo feudo di pascolamento e l'attacco a Cerasa è che tricologicamente sta accadendo senza neanche opporre resistenza. Poi dice che mi criticheranno perché lo prendo soprattutto dal punto di vista fisico e cita faccia, lo cito anch'io, perché il grande rilievo politico della critica, se voi leggete il pezzo di Scansi contro Cerasa, è che tricologicamente stia accadendo Cerasa. E l'altra cosa che fa capire anche la personalità di Scansi, senza neanche opporre resistenza, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare dei trapianti dei capelli, dovrebbe usare le auto abbronzanti come fa Scansi per sembrare più carino, così come lui confessò in un'intervista a Vanity Fair. Mi sembra che il livello della critica è tale per la quale Scansi è un buon imitatore di secondo livello rispetto al suo maestro Travaglio, che però qualche elemento in più nelle critiche forse cerca di averlo. Detto questo, mi sembra che questa sia bassa portineria per quanto riguarda la zuppa, anche per quanto riguarda questa inutile zuppa di porro, nel senso che è una zuppa che si nutre di ingredienti che hanno sapori diversi. L'ultimo sapore ve lo do con la copertina di Chi e la copertina di Chi oggi mi ha fatto pensare perché un tempo le copertine dei grandi settimanali di Gossip avevano le famiglie reali, avevano le grandi dinastie, avevano le grandi ricchezze, avevano le barche, vi davano questa impressione di non arrivabile e probabilmente anche quella di questa settimana è non arrivabile, ma è la famiglia in copertina chi è? La famiglia Rodriguez. Voi direte chi è? La famiglia di, come si chiama? Belen, Cecilia. Io ve la vorrei far vedere. Prendetevi la famiglia Rodriguez e pensate che oggi la copertina dei settimanali, la copertina! Non abbiamo più i reali, anzi se vengono in Italia li consideriamo le salme dei reali, succede un grande casino e la copertina in questo paese è di Cecilia Rodriguez e della sua famiglia. Direi per i poveri quattro scemotti che si preoccupano del ritorno delle salme dei reali in Italia che la copertina di chi è il simbolo di quello che siamo diventati, cioè che degli reali non gliene fotte più nulla a nessuno, non vi preoccupate, il vero problema sarà la dinastia Rodriguez con gli orecchini e il loro look. Voi dovete vedere come sono vestiti per questa foto, sembra che stiano andando, non so, a un matrimonio di paese. Detto questo, bellissime queste ragazze, straordinario questo ascensore sociale per cui la copertina di chi è a loro dedicata.